ciao amica ciao amico mi chiamo marcello faccio questi video perché sono un appassionato di moto se anche tu come me lo sei iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno quindi sarai sempre aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti e ti ringrazio oggi ti parlo di suzuki gs x r 750 del 1984 viene presentata infatti alla fine dell'84 all'ifma di colonia entra in commercio nel marzo 1985 la gs x r 750 caratterizzata alla presenza di applicazioni tecnologiche che erano derivati dal mondo del corso in particolare da quelle dell'endurance infatti la moto ha la stessa struttura dalla versione di endurance di quegli anni col vantaggio rispetto alla concorrente di avere un telaio in alluminio un'altra caratteristica che la distingue la presenza di cerchi da 18 pollici mentre la moda del tempo prevedeva l'uso dei cerchi da 16 pollici la prima serie disponeva poi del motore con raffreddamento misto aria olio secondo il sistema sacs suzuki advanced cooling system utilizzato per risparmiare peso rispetto al raffreddamento a liquido quindi a questo punto vediamo le immagini di questa bella moto in termini molto interessante appunto per le sue caratteristiche tecnologiche vediamo come la g sia presente l'ampia carena che protegge appunto il pilota dal dal vento permettendo una forte penetrazione aerodinamica per una moto molto sportiva ma allo stesso tempo abbiamo la sella questa versione ampia e doppia quindi anche per un eventuale passeggero altra nota che mi sento di sottolineare caratteristiche da sottolineare questo bellissimo telaio in alluminio di cui parliamo poi dopo partiamo dal motore quattro cilindri linea cindate in 749,68 centimetri cubici la distribuzione doppio albero a cam in testa azionato da una catena quattro sono le valvole per cilindro l'alimentazione anch'essa con quattro carburatori della micuni denominati vm 29 col diffusore da 29 millimetri di diametro la potenza massima è di 100 cavalli 10.500 giri al minuto la coppia massima di 7,3 chilogrammetri a 8.750 giri al minuto il telaio come ti ho detto in alluminio con tubi a sezione rettangolare a doppia culla mentre la sospensione anteriore formata da una forcella teleidraulica della kaiaba con liste da 41 millimetri di diametro ed è regolabile andiamo al posteriore dove siamo in presenza del forcellone oscillante con il mono ammortizzatore regolabile con il sistema denominato new full floater di suzuki passiamo all'impianto frenante vediamo qui all'anteriore questo bel doppio disco da ben 300 millimetri di diametro e al posteriore invece abbiamo il singolo da 220 millimetri di diametro le ruote molto belle molto leggere anche esteticamente sono in lega leggera da 18 pollici l'anteriore come il posteriore il peso a secco della moto è di 176 kg la capacità del serbatoio generosa comunque adeguata al al tipo di moto che d'altronde non consuma tantissimo si parla di 18 chilometri con un litro è di 19 litri la velocità massima di circa 240 chilometri orari se ti è piaciuto il video metti like se non ti è piaciuto metti dislike ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi prima gratis non ti costa nulla ma contribuisce alla diffusione del canale e ti ringrazio il secondo luogo faccio un video al giorno sarai sempre quindi aggiornata aggiornato sui nuovi contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre molto graditi ciao grazie mille per l'attenzione e buona serata